tramite sorgisa il mio editore e youtube di vb chiese allora all'entità perché non lo aveva avvisato tramite sorgisa che il suo amico era morto e l'entità rispose perché vuoi avere prove personali della nostra esistenza noi non soddisfaremo mai i bisogni del tuo io proprio perché noi vi parliamo per farvi consumare il vostro io che il vostro destino spirituale in una successiva trans l'entità aggiunse tante creature ho aiutato a prendere confidenza con l'oltre ad accettare il loro destino tante creature ho istruito anche noi istruiamo anche noi dobbiamo iniziare a parlare a questi spiriti disorientati che arrivano qua inaspettatamente immeritatamente secondo loro ingiustamente secondo loro specialmente quando la fine è violenta noi dobbiamo fare opera di persuasione far capire loro il senso dell'accaduto affinché essi possano accettarlo possano ritrovare quella serenità necessaria per progredire per sviluppare in questa dimensione non crediate che qui il lavoro sia meno faticoso il lavoro che attende voi qui è di grande responsabilità ma noi siamo lieti di farlo siamo lieti di renderci utili perché renderci utili significa donare amore e l'amore si dona in tutte le forme ricordatevi che amore è anche dire una parola di consolazione fare un sorriso dare una carezza una stretta di mano è sempre amore gettare una briciolina a un passero e amore amore è la più bella parola quella che deve unirvi quella che più dovete imparare fratelli miei è l'unica parola che sostiene il mondo che sosterrà sempre tutti i mondi in ogni epoca è quella che eleva e dove tutti andremo a trasfonderci un giorno